benvenuti in questa video guida vi mostro l'utilizzo di free video to dvd converter un programma molto semplice gratuito e disponibile anche in versione italiana per convertire in dvd qualsiasi tipo di formato video come ad esempio il famoso dvx che è in formato avi o ancora altri formati come mp4 il 3gp l'flv e tanti altri ancora come potete notare la sua interfaccia è molto semplice e basilare può capitare che all'avvio della prima volta del programma esso si presenta in lingua inglese pertanto noi possiamo cliccare su option e scegliere tra l'elenco della lingua disponibile italiano e poi premere su ok vediamo che immediatamente il programma si è trasformato nella nostra lingua con free video to dvd converter possiamo creare dvd in modo molto veloce ed inoltre esso contiene uno strumento che ci permette di creare di masterizzare dvd dopo la loro conversione ed infatti possiamo decidere alla fine della conversione se masterizzarlo oppure no lasciando solamente i file sul nostro computer la prima cosa da fare è quella di caricare i video all'interno del programma per farlo ci sono due modi o clicchiamo su sfoglia e selezioniamo il file video dal nostro pc oppure li trasciniamo direttamente dal desktop ad esempio come faccio in questo caso come abbiamo detto esso accetta numerosi tipi di formato video ad esempio possiamo caricare un video in formato avi uno in formato mp4 uno in formato flv 3gp e tanti altri ancora caricati i nostri video che possiamo sempre rimuovere selezionando e cliccando se rimuove eppure possiamo spostare il loro posizionamento servendoci di queste frecce passiamo ora a selezionare il percorso dove verranno salvati i file del dvd dopo la conversione quindi possiamo cliccare su sfoglia e selezionare il percorso dal nostro computer fatto ciò possiamo scegliere il tipo di qualità da dare al nostro dvd vi sono diversi tipi e sostanzialmente c'è il dvd ntsc e pal e dvd pal ntsc e pal sono due tipi di codifica del colore usate a secondo del paese in europa in italia si usa principalmente il pal quindi noi dobbiamo selezionare uno dei quattro tipi di qualità pal ad esempio selezioniamo quella standard e poi andiamo avanti questa barra ci indica il riempimento del nostro dvd in questo caso siamo appena a 470 mega ma possiamo arrivare a riempire dvd che conta 4 gb e 32 oppure possiamo anche masterizzare un dvd dual layer che conta fino a 7,9 gb fatto ciò possiamo usare il tasto opzioni per sezionare questa voce che ci permette di indicare al programma di spegnere il computer una volta terminata la conversione questo per la lingua abbiamo già visto invece quest'altro pulsante ci permette di aggiornare il programma qualora ci fossero nuovi aggiornamenti infine clicchiamo su create dvd e ci compare questa finestra che ci permette di decidere se a termine della conversione possiamo avviare direttamente il masterizzatore dvd e attendere un comando dell'utente ovvero una volta che finita la conversione ci chiede quando iniziare a masterizzare dvd oppure avviare masterizzatore dvd e iniziare direttamente la masterizzazione oppure nessuna azione da intraprendere e cioè il programma converte solamente il dvd in i video in dvd e li salva sul pc fatto ciò clicchiamo su continua e inizia la conversione la conversione naturalmente richiede diverso tempo a seconda della quantità e della durata dei video che abbiamo inserito ma una volta finita adesso la fermiamo ci ritroviamo sul desktop o nella posizione che avete scelto le cartelle contenenti i file dvd che classica che normalmente si chiamano audio ts e video ts naturalmente siamo scelto di masterizzare dvd alla fine della conversione partiva la masterizzazione con questo è tutto alla prossima